Continuiamo con un soprano, una cantante lirica, si chiama Cinzia Manetti. Cinzia Manetti canterà da Capuleti e Montecchi l'aria principale di Giulietta, o quante volte o quante. Cinzia Manetti canterà da Capuleti e Montecchi. Cinzia Manetti canterà da Capuleti e Montecchi l'aria principale di Giulietta. Cinzia Manetti canterà da Capuleti e Montecchi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.